Lo vediamo in questi giorni, con gli incendi che divampano in tante regioni e che spesso sono il risultato di azioni di criminali da punire con forza e determinazione e con grande severità. A questo riguardo esprimo grande riconoscenza ai tanti servitori dello Stato, benemeriti della nostra società, nei vigili del fuoco e nelle forze dell'ordine, ai tanti volontari dei gruppi antincendi che si stanno adoperando con grande sacrificio e abnegazione per spegnere gli incendi, per contrastare il fuoco appiccato da sciagurati colpevoli che mettono a rischio la sicurezza delle persone, deturpano la bellezza del nostro Paese e ne danneggiano gravemente l'economia.